Ed ora il volley mentre sono ancora in corso gli europei maschili, primo appuntamento domani il 9 settembre contro Consolini Volley per le ragazze della Bartocini Fortinfissi Perugia in vista del campionato di A2. La prima bichevole ufficiale per la squadra perugina che poi scenderà in campo il 12 settembre a Roma contro il locale Volley Club, il 15 a Montecchio, il 23 le magliette nere restituiranno la visita a Consolini andando a giocare al Palasport di San Giovanni in Marignano. Infine il 30 settembre amichevole contro Firenze in una sede da stabilire.